Buongiorno ragazzi, nuovo video, quest'oggi un po' diverso, un video un po' diverso, non si vedrà in questo video del cibo, non si vedranno dei pasti, non si vedranno degli allenamenti e vi anticipo che nemmeno nei prossimi video purtroppo posso allenarmi perché chi mi segue su Instagram sa che ho avuto un incidente stradale, fortunatamente io sto bene, devo solo restare a casa, devo solo non fare sforzi perché mi si blocca la parte destra, mi fa leggermente male e purtroppo la macchina è distrutta però fortunatamente sto bene. A parte questo ragazzi, questo è un video importantissimo, un video che pensavo da tempo di fare, però era sempre un po' titubante perché comunque magari non traspare ma sono molto timido e parlare di questo argomento a volte mi emoziona un po', comunque ci tenevo ad aprirmi al massimo, è un argomento importantissimo, spero che il video vi possa essere d'aiuto. Come avete intuito dal titolo vi parlo di binge eating e della mia storia a riguardo, io se qualcuno non mi segue da tempo, se qualcuno non sa la mia storia, circa 5-6 anni fa ho raggiunto un punto di peso di circa 98, quasi 100 kg quindi ero un ragazzo obeso, sono sempre stato un ragazzo in carne, però muovendomi molto potevo mangiare quasi ciò che volevo, sì ero sovrappeso ma non ho mai raggiunto l'obesità fino a quasi 4-5 anni fa in cui ho toccato il quota 98 kg. Da lì poi, come molti di voi possono immaginare, quando sei adolescente, magari qualche giudizio negativo, qualche parola di troppo di altri ragazzi e soprattutto di altre ragazze possono metterti in crisi e possono indurti a fare quello che magari ho fatto io, quindi decidere di perdere peso e cercare di apparire e non di essere, cercare di apparire come vogliono gli altri e non come vuoi tu. Quindi cosa fai? Da 98 kg provi a scendere di peso, ti vai in palestra, cominci a correre, attività cardio, attività in palestra, fai di tutto, cerchi di mangiare il meno possibile. Voglio raccontare, prima di arrivare al binge eating, alla bulimia, a quel bruttissimo anno, voglio raccontarvi come ho perso questi kg in maniera molto veloce. Diciamo che nei primi 2-3 anni, tramite le varie diete, le ho fatte di tutte, dalla dieta del merruzzo, la dieta dei tramezzini, le chetogeniche fatte male, le ho fatte di tutte ragazzi. E ho cominciato a perdere i vari 10-15 kg in maniera abbastanza tranquilla. Poi quando il meccanismo si blocca, dopo 2-3 anni, vedi che non ce la fai più e diciamo all'incirca dopo 2 anni ho cominciato ad avere un blocco e a calare le calorie, a cominciare a capire quelle che erano le calorie in modo sbagliato perché le calavo drasticamente, vivevo circa con 5-6 g di grassi al giorno, con circa, credo, 50 g di carboidrati e sulle 200 g di proteine perché erano quelle di cui parlavano in palestra. Cominciavo a fare degli sgarretti. Poi il momento buio, diciamo, del binge eating e della bulimia, l'ho vissuto per circa un annetto e cominciò quando andò in palestra e un istruttore del tempo mi disse guarda io mi trovo bene con questo tipo di dieta, è una chetogenica che ragazzi era fatta male, non era nemmeno una chetogenica e puoi mangiare 2-3 mele, il resto solo grassi e proteine e il fine settimana sgarra mangiare quello che vuoi. Mettetemi nei panni di un ragazzo che ogni giorno non mangiava quasi niente, che era abituato a fare delle corse la mattina, dalle 5 di mattina facevo circa 20 km, tornavo a casa, andavo a scuola e il pomeriggio facevo tipo 2-3 ore di palestra, facevo tutti i circuiti che mi davano e li ripetevo finché ce la facevo e a volte, 2-3 volte a settimana andavo a giocare a calcetto la sera, tornavo, l'attuga iceberg, 300 g di merruzzo e a nanna, quindi immaginate la fame con cui arrivavo nel weekend. Arrivavo nel weekend e potevo sgarrare, iniziavo dal sabato pomeriggio dopo la partita, mangiavo una quindicina di brioche, quelle confezionate o un pacco di gocciole, ragazzi non potete nemmeno immaginare, anche se credo che qualcuno di voi che magari è nella mia stessa situazione può capire, quindi cucchiaiate di nutella anche se non mi è mai piaciuta ma andava giù. La sera si continuava, pizza, crocchette, quello che capitava e poi la domenica ragazzi mi alzavo la mattina e dicevo a mamma di cucinare qualsiasi cosa, crostate, torte, fare cornetti, a pranzo mi divertivo, facevo lasagne, facevo di tutto, cioè qualsiasi cosa, pure che non mi andava la continuavo a mangiare perché poi dovevo mettermi a dieta e non potevo. Ovviamente piano piano cominci a vedere che il tuo peso comunque non scende, che tu stai sempre peggio, che non ti riesci a allenarti perché lunedì sistematicamente stavo male, a volte dovevo andare anche in ospedale perché vomitavo tutto, cioè avevo dei disturbi proprio incredibili, mi sentivo male di stomaco, cose bruttissime solo al pensiero, e poi piano piano avverti, vedi che non migliori più e ti vengono i sensi di colpa giustamente e comincia quel disturbo che magari conoscete che è la bulimia in cui ti induci da solo in maniera volontaria il vomito per ricacciare, così possiamo dire, tutto ciò che hai ingerito, quindi è un farsi male da soli. Questi episodi cominciarono ad esserci solo in fine settimana, poi piano piano anche durante la settimana perché più hai voglia di abbuffare, più ti abbuffi e più vomiti automaticamente. Fortunatamente posso dirvi che non è durato tantissimo, è durato un periodo che è circa un anno, diciamo dall'estate, da un'estate, quindi giugno-luio fino ad aprile dell'anno successivo, e vi dico fino ad aprile perché l'11 di aprile di quell'anno, che fu il 2014, io dissi basta, perché ci fu un episodio che mi colpi particolarmente in quanto ero qui a casa con i miei parenti e quel giorno era il giorno del mio compleanno e potevo sgarrare e mia nonna mi portò una teglia di parmigiana che era il mio piatto preferito al tempo e io mi ricordo che presi questa teglia, era più o meno 2-3 kg, quelle classiche grandi teglie di parmigiana, e me la mesi davanti e la finì e i miei parenti mi guardavano come per dire ma quanto mangia? Questo non mangia mai, se ora si sta mangiando tutta sta roba. Io mangiassi bene, un po' felice, lì dopo 3-4 minuti presi andare in bagno con una scusa e vomitei tutto. Vomitei tutto, mi alzai dal bagno e davanti allo specchio mi guardai e pensai il tuo compleanno e fai questo, il tuo compleanno e a posto di viverla con serenità, di gioia, di stare con i parenti, stai in bagno a vomitare quello che hai mangiato 10 minuti fa. Allora lì un esame di coscienza, piansi davanti al bagno e realizzai che dal giorno dopo praticamente mi promisi di cambiare. Piano piano è stata difficilissima ragazzi, è stata difficilissima, arrivare a una consapevolezza che potevo mangiare il cibo che volevo perché non c'è differenza, non esiste un cibo che posso o non posso mangiare, devo essere consapevole di questo, devo essere consapevole che per allenarmi e per migliorare devo mangiare un determinato quantitativo di nutrienti che non sono pochi, quindi che bisogna mangiare, che non bisogna fare la fame per migliorare. E piano piano con l'aiuto di tanti amici, con l'aiuto di persone che mi sono state a fianco che ringrazio particolarmente, a parte in questo periodo in cui sto bene, ormai non ho nessun disturbo, sto tranquillo, anzi aiuto anche molti ragazzi che mi chiedono su Instagram magari come uscire, gli do i miei consigli, quello che ho fatto io e a volte sono felicissimo quando mi dicono guarda funziona, è vero, quello che mi hai detto mi sta aiutando, è la cosa più bella del mondo. al tempo quando iniziai a uscire dal disturbo mi fu, in quei mesi mi fu molto vicino, se così si dice, il mio italiano pecca, una mia cara amica franca che mi dava dei consigli quando uscivo fuori perché io comunque ero destabilizzato, non volevo mai uscire, mai godermi la famiglia. Poi vabbè ultimamente, negli ultimi anni, mio fratello mi è stato molto accanto quindi mi ha sempre supportato, anche la mia famiglia negli ultimi anni ha cominciato a capire quello che stavo facendo, che comunque era la cosa giusta che prima mi stavo solo facendo del male. Quindi questa è più o meno la mia storia sul binge eating. Quello che vi posso dire ragazzi è che se siete nella mia vecchia situazione ragazzi pensateci, pensate che le cose importanti non sono sicuramente quello. non dovete dar conto agli altri per come siete, dovete piacervi voi stessi e se quello che siete allo specchio non vi piace, non è certo riducendo le calorie a 200 o correndo come cavalli fuori dalla strada che migliorerete e perdete dei chili di troppo. Il miglioramento della composizione corporea ragazzi è un percorso a lunghissimo tempo come dicevo in un video precedente, dovete darvi tempo, veramente tanto tempo e godervi il percorso soprattutto, godervi il percorso di tutte quelle tappe intermedie che avete quindi le cene fuori, le vacanze, la famiglia in generale, gli amici, il cibo lo stesso cibo che è uno dei piaceri della vita ascoltarsi, capire quale cibo è meglio per me e quale cibo è meglio per un altro perché magari tutti dicono mangiatevi il riso e il pollo ma chi l'ha detto che io per me reagisco bene il riso e il pollo? Io reagisco bene ad altri alimenti, c'è soggetto A che reagisce bene all'avena soggetto B che reagisce bene alle patate e soggetto C che reagisce bene al riso quindi anche capire l'alimento che ti fa bene, che ti fa stare bene è bellissimo io sono, ieri sono andato al pronto soccorso per il collo e dicevo a mia mamma mamma ti ricordi che alle superiori qua ci venivamo almeno una volta al mese sono tre anni che non vengo al pronto soccorso, l'hanno rinnovato e lei ci ha pensato e ha detto eh però è vero quindi cominciate ad ascoltarvi, questo è il consiglio che vi do io godetevi la vita, godetevi questo bellissimo sport, questo bellissimo stile di vita perché solo chi lo fa può capire quanto stai bene e non fatevi del male, mai noi ci vediamo nel prossimo video che questo lo metto domani lo monto ora e lo metto domani noi ci vediamo nel prossimo video che probabilmente sarà una ricetta perché raga non mi posso allenare e grazie a tutti per la visione spero che questo video veramente vi possa essere d'aiuto in ogni caso avete ascoltato la mia storia cliccate mi piace e iscrivetevi se vi fa piacere seguirmi e noi ci vediamo al prossimo video ciao